l'ottomila e 16 annulli speciali circa 650 annulli contenuti in questa scatola ecco l'acqua qui vado piuttosto velocemente per non far odiare il video in eternità qua ci sono poi le vignette più di lettera annulli di vario tipo e genere sia su buste che su cartoline e anche su un maximum quella delle poste italiane come potete vedere anche su busta appunto c'è pure qualche cartolina illustrata questi sono foglietti di carta quelli che si mettono in mezzo per per non fare sporcare con gli annulli c'è qualcosa al giravido di sicilia sto vedendo c'è qualcosa che ha preso un po' di umidità se volete altri video informazioni scrivete a filateli a chiocciola 4 baiocchi puntocom ciao ciao